Io penso che alla fine abbiamo iniziato l'ora, abbiamo iniziato l'ora, abbiamo iniziato l'ora, penso che tutta la squadra ha dato tutto. Però è data così, una palla, un po' di ruolo, non faccio tutto. Io penso che alla fine abbiamo superato, ma se non abbiamo superato tutti i risultati positivi, la squadra è stata lì, si penso, e abbiamo cercato di risultare meglio. Penso che, vorrei chiedere, insomma, lei è il giornalista, quindi alla fine, io sono arrivato qui dalla parte, tutti i giorni, tutti i giorni, e naturalmente i ultimi della partita magari sono un po' tranquillamente, la prima che, alla fine, abbiamo disputato una gara, siamo arrivati due o quattro volte, avevo l'illusione, se facciamo un paio di cose in primo tempo, per uno secondo o un po' a due, in un'altra partita, credo che stiamo parlando di una partita. Andiamo ad analizzare il singolo, a tornare che abbiamo usato a fare qualcosa, perché non ci sono i giorni, che ci stiamo allenando, non abbiamo tutto nelle gambe, perché giustamente non è un po' che non possiamo leggere, perché veniamo tutti da pochi giorni di pulito, e stiamo apportando delle scuole che stanno a pulito da un mese, e che, per esempio, la Leggiana, sono due anni che giocano insieme, perché abbiamo soltanto dei giocatori, oltre l'anno scorso, quindi è un gruppo compatto, e credo che, come una scuola così organizzata, una scuola che gioca da tre anni insieme, abbiamo subito per poco, abbiamo preso il cuore di pagino, ma non si traccia da un punto, quindi, credo che, cioè, non è normale che bisogna migliorare, io prima sono migliorato, ma credo che il test è stato un test importante, e da questo è un miglioramento, ma sicuramente ci sono una buongiorno e stiamo migliorando, e questo l'abbiamo visto anche in campo, cioè, abbiamo fatto degli scambi del prima, siamo arrivati a tiro con babbuse, siamo arrivati a confusione, con un prematore, con un cesto, quindi abbiamo deciso magari nel caso, con i vali cominciano a giocare, per il tempo, ben provati, con avviate in allenamento, è normale, da primo, alla risoluzione del primo quadro, che non è stato un miglioramento, ma è normale che questi miglioramenti non bastano per arrivare in quanto, sia un posizionatore, sia una squadra che giocava 5 minuti di casino. Ma è un piatto, cioè, io sono stato a 3, ma non ho fatto il ventito, però non vedo con la squadra, quindi la prima e la prossima squadra, per il tiro di tivo. Grazie a tutti.